Restiamo ancora a parlare di economia e di quanto in questo momento la gente sia in una grave sofferenza economica con i lavori consigliari ad Alcamo, infatti per la consigliera Annalisa Guggino di Centrali per la Sicilia e bene la commissione speciale per il ponte San Bartolomeo ma senza gettone di presenza che in questo periodo di grave difficoltà per l'appunto economica peserebbe ulteriormente alle tasche di tutti i cittadini e noi facciamo il punto nell'intervista. Consigliere Guggino, perché sei rivolta alle nostre telecamere? Perché stasera in Consiglio Comunale ci sarà da votare una proposta, in pratica la vorrei condividere con i cittadini. Si tratta di istituire una commissione speciale per monitorare i lavori del ponte San Bartolomeo. Cosa c'è che secondo il suo avviso non va in questa commissione, in questo punto che oggi pomeriggio verrà trattato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale? In questo momento di crisi economica, in questo momento in cui le materie prime sono aumentate in modo esagerato, non mi sembra il caso di istituire una commissione speciale che possa infierire sulle tasche dei cittadini. La proposta prevede che sarà adottata lo status del capo secondo della legge regionale numero 30 del 23-12-2000. In parole povere per noi che in queste leggi non abbiamo tanta dimestichezza? In parole povere questa legge all'articolo 19.4 prevede il gettone di presenza per la costituzione di una commissione. In questo momento di crisi economica, di un momento di pandemia che ancora non ne siamo usciti, in un momento che non sappiamo come andrà a finire con la guerra che è appena iniziata, purtroppo dobbiamo dire così, dove le materie prime sono aumentate in modo esagerato, io col mio gruppo politico non possiamo permettere che si possa istituire una commissione a carico dei cittadini. Cosa chiederà oggi pomeriggio in Consiglio Comunale? Semplicemente che la commissione si può istituire, perché è una commissione che ritengo che sia importante, per il monitoraggio del ponte San Bartolomeo, anche se c'è da dire che i lavori sono appena iniziati, che i deputati del territorio si sono impegnati appunto per fare in modo di fare iniziare i lavori, nel più breve tempo possibile, perché come sappiamo è un ponte che collega le due città al Camo Castellammare, quindi è molto importante, però noi sappiamo pure che nel nostro territorio ci sono tanti altri problemi, potrei dire l'ospedale, potrei dire i depuratori. Capirebbe praticamente un filone che ogni volta per esempio istituire una nuova commissione si renderebbe il gettone di presenza da quello che riesco a tradurre dalle sue parole? Praticamente sì, se noi apriamo questa maglia noi non ne usciremo più. Quindi altra commissione significherebbe ulteriormente mettere ogni volta le mani nelle tasche dei cittadini? Significherebbe un costo in più per i nostri cittadini e questo noi non lo possiamo permettere, se vogliamo fare una politica seria, una politica che ci vogliamo impegnare sul territorio, sicuramente si potrà istituire la commissione eliminando il gettone di presenza e pensando anche a qualcosa di un attimino di livello più alto, nel senso che è riunire i vari comuni del territorio e fare una programmazione seria dei problemi che ci accomunano. Io chiedo ai colleghi consiglieri, prima di votare la proposta, di riflettere sull'argomento.